Ciao a tutti gli amici di Guida Finestra, per questa rubrica dal cantiere, questo mese parliamo di innovazione, prodotti top di gamma e ristrutturazione. Prendo spunto da questo lavoro, da questo cantiere che abbiamo eseguito a Ferrara, dove l'architetto aveva già settacciato web e trovato le soluzioni top di gamma, ovvero voleva degli scorrevoli panoramici, voleva degli infissi abbattenti completamente costruiti in vetro, voleva tutte le guide senza nessun tipo di inciampo o pavimento, poi voleva i vetri tripli perché aveva bisogno di una prestazione termica importante, voleva una sicurezza ottenuta tramite gli infissi perché non c'era nessuna tapparella, nessun elemento oscurante esterno e poi voleva anche che tutto fosse estremamente trasparente, quindi massimizzare la trasparenza anche perché l'abitazione sarebbe stata trasformata in un elemento completamente bianco, quindi la trasparenza e l'obiosità era uno dei driver di progetto. La casa era una semplice billettina unifamiliare, stuta su un piano degli anni 80, eseguita in mattoncini che andava trasformata proprio, ecco, e praticamente cosa succedeva? Tutte le piccole finestre classiche di una casa degli anni 80 dovevano essere allargate per riuscire poi a installarsi delle grandi vetrate panoramiche, quindi hanno fatto delle cerchiature, hanno ampliato tutte le finestre e poi sulla parte esterna hanno fatto una specie di frangisole pergola, diciamo così, per andare a ottimizzare l'apporto luminoso e di calore, quindi fare una protezione dal sole, poi nella parte sopra di tutto questo tetto c'era un sistema di raccolta di acqua che poi sarebbe servito per l'irrigazione anche per alimentare dei piccoli laghetti con le dininfe all'interno, quindi un progetto ben ideato ed ambizioso che l'architetto aveva chiaramente in mente. Come mi piace dire scherzando, la ricetta che abbiamo proposto è stata quella di utilizzare degli scorrevoli panoramici in sciuco con la serie AS67PD e poi per i battenti abbiamo utilizzato degli infissi ES finestra completamente in vetro per la porta di ingresso che la voleva abilico perché era di grande dimensione ad alta intera, una OICOS in una ma nella versione a taglio termico e poi il tutto è stato costruito con dei vetri tripli per avere la massima prestatore termica in cui tutte le lastre sono state eseguite con le lastre, il vetro extra chiaro, quindi massima trasparenza come voleva l'architetto e poi il vetro esterno abbiamo utilizzato un P4A, quindi un vetro antisfondamento che è un vetro che abbinato alle prestazioni dell'infisso, quindi della ferramenta dell'infisso ci garantiva una resistenza alle frazioni in classe 2 che era qualcosa che abbinato al sistema d'allarme abbastanza sofisticato, tra l'altro anche il sistema di allarme era sufficiente a garantire la sicurezza degli abitanti dell'abitazione. Durante il primo soprologo in cantiere ci siamo reso conto che avevano già costruito e realizzato le cerchiature in putrelle di acciaio e le avevano posizionate nella parte interna del muro. Questo cosa comportava? Comportava che solitamente l'infisso panoramico viene installato appunto dall'interno e poi viene costruito una parete, una controparete in cartongesso per nascondere il telaio alla vista, non era più possibile perché da dentro, essendoci le putrelle, non si poteva realizzare. Quindi abbiamo iniziato a pensare al contrario, abbiamo detto proviamo a capovoltare tutto questo sistema. Abbiamo invertito il controtelare, abbiamo invertito la posa, quindi avremmo posato i serramenti dell'esterno e poi il capotto si avrebbe realizzato successivamente. Alla fine questa prima intuizione l'abbiamo messa sulla carta, l'abbiamo trasformata in realtà ed ha funzionato molto bene e questo aspetto è uno di quegli aspetti che poi ce lo siamo messi nel nostro bagaglio e ci è servito anche per altri cantieri quando ad esempio ti trovi un cliente che non vuole costruire la controparete in cartogesso ma magari fa comunque il capotto esterno. Quindi rivoltando il sistema se la logistica lo permette, se non sei magari in una situazione dove fai fatica a montare il telaio dall'esterno, è qualcosa che ti può venire molto utile. Poi abbiamo completato la progettazione di tutti i controtelai, il nodo primario, il nodo secondario, le predisposizioni per incassare la guida a filo pavimento che le abbiamo realizzate con una sorta di U in acciaio inox che servisse come contenitore per andare a appoggiare dentro la guida ma anche come deflusso di acqua che poi andava collegato alla rete foniaria perché comunque l'acqua anche se lo scorrevole è protetto può entrare anche solamente in caso di pulizia dei vetri piuttosto che con una nebbia che nella pianura padana è abbastanza presente e soprattutto a Ferrara e quindi quest'acqua deve poter defluire altrimenti l'acqua stagnante rischia di fare anche dei cattivi odori e nel tempo rovinare il piso stesso. Poi quando abbiamo finito tutti questi dettagli e ci siamo confrontati con la direzione dei lavori siamo tornati in cantiere e abbiamo conosciuto l'impresa edile ci siamo resi conto che non era in grado di posare questi materiali perché non li aveva mai fatto e questo succede a volte quando si fanno delle soluzioni innovative e poi ristrutturazione quindi quando si mettono tante difficoltà insieme cosa si fa in questo caso? si va a braccetto, lì si accompagna, lì si spiega le cose, lì si dà una mano a posare i controtelai perché se la posa ce l'hanno loro è difficile magari deparcarla dal computo e si controlla accuratamente perché un errore di pochi millimetri in uno scorrevole panoramico ad esempio una guida posata più in basso o più in alto rispetto al pavimento è qualcosa che poi ti compromette il risultato finale e bisogna andare a smontare e rifare il lavoro così come è successo tra l'altro nella posa della porta di ingresso a bilico perché avevamo già posato insieme tutti gli altri telai quello ce l'hanno posato da sole, abbiamo capito che tutto va bene ma poi siamo tornati a fare le misure e era fuori il piombo di 3 mm l'abbiamo fatto smontare e l'abbiamo fatto rimontare voglio farvi vedere anche un progetto di posa in opera quello che abbiamo utilizzato per questo cantiere questo è un progetto molto dettagliato che va stampato in A3 va appiccicato alla parete del cantiere va spiegato e poi come dicevamo prima l'impresa va seguita e controllata chiaramente se è un'impresa con la quale lavorate sempre è un lavoro che fa in continuazione o no ma si trovate in un cantiere nuovo con soluzioni nuove con un'impresa che queste cose non le ha mai fatte bisognava seguita altrimenti poi il problema diventa il nostro anche se non è il nostro inizialmente ma noi arriviamo alla fine e come sapete è benissimo il sermentista quello che si prende tutti i problemi delle maestranze che ha lavorato in precedenza purtroppo alla fine siamo arrivati giustamente alla posa in opera abbiamo installato tutti i telai fissi degli fissi scorrevoli panoramici e poi abbiamo dato istruzione ancora una volta ai capottisti che dovevano completare il lavoro di occultare il telaio i vetri non li abbiamo installati perché li mettevamo in pericolo di essere rovinati, sporcati inutilmente tanto la casa era ancora in cantiere una volta ultimati i lavori del cappotto controllato che tutto sia come da progetto e come doveva essere poi abbiamo chiamato un camion gruppo, un gruppo ventoso perché i vetri tripli blindati, parlavamo dei vetri con oltre 300 kg di peso e abbiamo installato tutti questi vetri abbiamo installato in realtà anche dei vetri degli infissi e battenti con il camion gru perché se n'era uno, soprattutto mi ricordo quello del bagno con un bagno molto bello, con una sorta di piscinetta zen anche quella lì, una vetrata di oltre due metri con una parte fissa molto importante e pesava qualcosa che due o tre persone anche normalmente non riuscivano a posarlo avevamo lavorato lì, abbiamo utilizzato questo strumento che ti permette di posare in sicurezza e preservare la schiena dei nostri amati collaboratori in conclusione, voglio dirvi questo quando si usano soluzioni innovative si fanno i cantiere di strutturazione secondo me bisogna essere guidati sempre da passione e da umiltà passione perché ci deve piacere il nostro lavoro umiltà, dobbiamo essere sempre aperti a mettere in gioco tutto quello che sappiamo io stesso quando entro in un cantiere nonostante abbia 36 anni di esperienza sul campo sia in officina che in cantiere tutte le volte mi tolgo il cappello non faccio l'imparato e cerco di trovare una soluzione migliore per quel tipo di cantiere questo è un atteggiamento mentale molto importante che ci permette di crescere ogni cantiere che affrontiamo ci permette di arricchire le nostre competenze di arricchire il nostro bagaglio culturale e soprattutto arricchisce tutto il nostro amatissimo settore dei serramenti ciao e al prossimo articolo